Il rapporto Draghi sarebbe stato anche molto cortese da parte del Presidente Draghi stare qui in mezzo ai rappresentanti del popolo europeo a discutere. In ogni caso ha il merito di aprire una riflessione sul futuro dell'Europa, ma offre risposte inadeguate che non modificano il quadro delle politiche macroeconomiche e la qualità dello sviluppo. La proposta di 800 miliardi di euro di investimenti se finanziati dal debito comune rilancia l'ottima esperienza del Next Generation EU. Ma come si può realizzare in un contesto di politiche fiscali dominate dall'austerità? Il patto di stabilità ha funzionato bene solo quando è stato sospeso. Ma già quest'anno il patto impone circa 100 miliardi di euro di riduzione di spesa agli Stati membri e 13 miliardi di euro di spesa in meno all'Italia, al mio Paese. Il rapporto non è completo. Manca di un'analisi di un lavoro di oggi, della funzione dei sindacati, dei problemi della povertà e della disuguaglianza scaturiti nel capitalismo finanziario e della grande disparità tributaria che garantisce alle multinazionali vantaggi fiscali ed elusione. Manca un riferimento sulle conseguenze dell'impatto dell'intelligenza artificiale sul lavoro. Senza un reddito minimo avremo milioni di poveri in più. Ma infine, come si può rilanciare l'economia europea con gli eurobond di guerra? Crediamo in un'Europa più integrata, sociale e solidale.